Il nubifragio che si è abbottuto ieri nella provincia di Catania ha messo ancora una volta in evidenza come il territorio siciliano è un territorio fragile. Come vigili del fuoco abbiamo esplodato più di 100 interventi, tantissimi ancora sono in coda e in questi giorni sicuramente affioreranno altre problematiche derivanti da questo nubifragio che si è abbottuto nel territorio. Come vigili del fuoco ancora una volta ribadiamo che il soccorso tecnico e gente è indispensabile, ci vuole un investimento serio per aumentare gli organici e per acquistare attrezzature all'avanguardia. Noi come organizzazione esterno idracale staremo sempre sul pezzo, vogliamo che ci sia prevenzione e messa in sicurezza del territorio e soprattutto una salvaguardia maggiore anche per i vigili del fuoco stessi. Ci auguriamo e ci auspichiamo che da questi eventi climatici estremi si faccia molido e si intervenga sul territorio e si aumenti soprattutto l'organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco.